bene 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 ragazzi benvenuti in questo nuovo e magico video oggi siamo in sella alla piccola z e stiamo facendo un bel gruppetto che siamo io belle lucas michael rave la tipa di lucas ivan e altri due amici e stiamo andando ragazzi a far far la prima esperienza michael praticamente del bondone cioè lui ha preso una moto da poco ovviamente lo sapete già perché lo seguite però ragazzi bomba quindi oggi la z ci farà vedere come si insegna a grattare al bondone la piccola z e nulla ragazzi adesso siamo ancora in autostrada fra poco usciamo volavano costa e su di là e si va ragazzi quindi a dopo vi ricordo comunque che michael mi sa è la prima volta che gira fa un bel giro serio in moto quindi con calma non mettiamogli pressione ci siamo siamo prima del bondone e ovviamente abbiamo una macchina davanti nelle cure più belle classico bene 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 ragazzi guardate cosa si prospetta no tutti questi mamma l'ave dove vuoi andare merruzzo in umido mamma mamma che merda c'era mannaggia la 09 chiaccio a lungo mamma mia ragazzi bomba 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 il bondone che spettacolo e ora visto che l'uno e mezza papà molto meritata e molto asciugata di saliva mamma ragazzi stiamo già scendendo perché abbiamo ricevuto una telefonata da michael che c'è detto che ivan ragazzo con 701 i van giussani conoscete anche voi è andato un po lungo era appoggiata nel bosco adesso vediamo speriamo stia bene non c'è nient'altro noi abbiamo messo giumetto arriviamo subito vediamo un po cosa è successo speriamo nulla di che c'è qui vuol dire che ha preso ed è andato dritto di là è in piedi dai no no come ha fatto ma lungo in staccata no lungo in curva ma sta bene ah è in piedi quello che ho capito ha fatto la curva e ha tagliato no no ha fatto un fatto così ho perso busti ragazzi ne abbiamo finito il pranzo praticamente merenda che al bar del bondone ci hanno messo un'ora un'ora per farci dei luri di panini guarda lasciamo perdere però almeno adesso stiamo tornando indietro l'idea era di fare il tonale giù di là però sai quando perdi un'ora e mezza solo per mangiare perché i panini non arrivano purtroppo non riusciamo quest'oggi e quindi torniamo indietro verso le coste e quindi ragazzi beh godiamoci un po' di panorama e adesso andiamo giù in tranquillità così facciamo un po' di stradine lungo lago quattro curve e digeriamo quei brutti panini che abbiamo mangiato prima mamma che riprese signor Michael che riprese mamma mia vai Michael spostiamo la chiappetta che ce la facciamo mamma mia che spettacolo di visuale ragazzi veramente oggi non lo so sto parlando poco però ragazzi a parte che sono in stra ritardo per tornare a casa però vabbè che ho avuto Ivan il paninaro che lì non va e vabbè però vabbè cerchiamo di recuperare un po' di tempo e ovviamente le macchine sono qua che vanno a due all'ora ma vabbè va bene così guardalo il belle il gessistico guarda che oscillazione che leggiadrezza di movimento sei proprio un kinder happy hippo belle oh sti che oscillazione cioè guardalo con che leggiadrezza ragazzi non so perché ma prevedo belle champagne adesso così eh ma proprio semplice dai dai belle swiffer duster guardalo sei proprio tipo non lo so belle un un panzerotto caldo con la mozzarella finante si preannunciano le coste piene di ignoranza più o meno come al solito ragazzi non è che cambia molto dal solito mamma belle mamma belle davanti a tutti mamma mia ragazzi che filone che stiamo facendo sempre belle le coste ci vorrebbe un asfalto leggermente fatto meglio però ebbene sì ragazzi adesso stiamo scendendo dalle coste e con questa discesa leggiadra con quel merruzione di belle qui davanti a me non mi resta che concludere il video di oggi e quindi ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi qui sotto al canale lasciate un bel like commentate soprattutto e mi raccomando ragazzi iscrivetevi sempre e comunque e commentate lasciate il like fate sempre tutto ragazzi fatelo su e detto questo ci vediamo come sempre ogni domenica e mercoledì rispettivamente alle 15 e alle 18 sul mio canale ciao ciao